Gli cagolini era un po' di più e si avesse che eravamo siamo andati a una carta e io che chợpia di stare qui e io già andavo quando sono andato a un numero diverso e mi dicevo, 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 mi dicevo e la stessa fine nel 1771, quindi nel 1771, nel 1939-77, ci hai dato un elemento, ci hai dato qualche posto Grazie Grazie Grazie